Ciao e benvenuti su Cos'è a caso, la mia rubrica sul collezionismo nerd, che risponde alla domanda ma che senso ha essere uno sfigato se poi non puoi mostrarlo a tutti su YouTube? Ed eccomi infatti con un nuovo video. Nel video di oggi vi parlo di questo fantastico orologio sveglia a forma di Game Boy classico. Questo orologio sveglia a forma di Game Boy è stato creato dalla Paladon, la stessa società che ha creato la lampada con i piani della morte nera che ho già recensito in questo canale. Ma vediamo un po' meglio questo oggetto. L'identico in tutto e per tutto ad un Game Boy classico si regola attraverso i tasti direzionali B ed A mentre i tasti Select Start sono puramente estetici. Sul retro, al centro, lo slot per le due batterie AA. Un vero Game Boy ne vorrebbe quattro. Presenti anche due piedini che gli permettono di stare stabilmente in piedi sul comodino, la scrivania o in qualunque posto lo vogliate mettere. L'aspetto è davvero solido e fedele all'originale. Confrottiamolo dunque con un vero Game Boy DMG. La somiglianza è davvero sbalorditiva. Cambia leggermente il colore delle plastiche, la dimensione del display e questo oggetto risulta leggermente più spesso rispetto al vero DMG. Ma in generale è proprio un bellissimo pezzo che non può mancare nella casa di un appassionato. Per maggiori informazioni su questa sveglia potete consultare il link in descrizione e trovate anche vari canali social dove potete seguirmi. Chissà, non si sa mai, ma nel dubbio iscrivetevi a questo canale. Grazie! Grazie!